Un incidente spaventoso, due auto fuori strada e una che vola nel fosso, tre feriti. I vigili del fuoco sono intervenuti lungo la provinciale 349 all'altezza di via 7. La squadra dei pompieri ha messo in sicurezza i mezzi ed estratto la coppia della Mercedes 280 e l'autista della Fiat Tipo finita rovesciata fuori strada. I tre feriti sono stati presi in cura dal personale del 118, stabilizzati e portati in ospedale. I carabinieri hanno deviato il traffico ed effettuato i rilievi per ricostruire la dinamica del sinistro.